amici di osservatorio granata noi siamo pronti questa sera ospiti l'ex presidente del toro l'avvocato gigi marengo la volontaria del museo del grande torino grande grandissima tifosa del toro che era simona cavallo il famoso opinionista della trasmissione televisiva area gol paolo oriente è un imprenditore ha fatto parte dei lodisti che salvarono il toro sebastiano consentino e lei è la presentatrice la speaker la giornalista da radio italia 1 la super simo simona sorbara per ultimi ma non per ultimi oscar maiorano fabio cantelmo da leo menegazzi osservatorio granata questa sera vi aspettiamo più carichi che mai